Il Movimento 5 Stelle Fano ha presentato alla stampa una nuova mozione che verrà presentata in consiglio comunale riguardo la viabilità cittadina. Recentemente la maggioranza si è interrogata su una possibile soluzione per i flussi diretti a nord, facendo riferimento al casellino di Fenile ed alcune ipotesi di nuovi collegamenti stradali per un costo stimato di 20 milioni di euro. Secondo stime ufficiali la città di Fano è sediata da circa 40 mila veicoli derivanti in gran parte da un traffico che pervade il centro storico e la cinta muraria. Secondo i grillini si possono prendere in considerazione altre soluzioni alternative per migliorare la viabilità. Il percorso che abbiamo studiato insieme ai nostri tecnici prevede da sud di intercettare il traffico della nazionale e di deviarlo sulla strada di mezzo dove poi si ricollega alla nuova rotatoria di Tombaccia e quindi alle opere compensative. Per quanto riguarda invece il collegamento a nord verso Pesaro dalla nuova rotatoria di Belgatto si prevede un nuovo asse viario, un nuovo asse stradale che affianchi l'autostrada per circa 5 o 6 chilometri e fino al confine diciamo con il comune di Pesaro. Per il Movimento 5 Stelle la concretizzazione di questa idea progettuale consentirebbe di concedere una viabilità alternativa alla statale adriatica e autostrada liberando la nazionale da ingenti flussi di traffico ricucendo in particolare la frattura urbana attualmente esistente nelle frazioni di Fano Sud. L'intervento infrastrutturale proposto nelle aree interessate prevede anche la possibilità di riqualificare i tratti stradali sovraccaricati riducendo la carreggiata per le auto e consentendo di inserire marciapiedi e corsie ciclabili dedicate. I pentastellati avvalendosi del contributo tecnico di un gruppo interno di professionisti hanno stimato che il costo complessivo del progetto rientrerebbe nei parametri dei fondi già stanziati dalla regione. La nostra soluzione è assolutamente affrontabile dal punto di vista economico-finanziario con i 20 milioni che la regione ha già messo a disposizione del comune di Fano per infrastrutture stradali.